Bene, questa sera si è consumato un altro strappo alla nostra povera Italia. Abbiamo visto un'aula piena di persone venute qua non per ascoltare la Cancellieri ma per votare contro la proposta del Movimento 5 Stelle e discutere subito sulla decadenza di Berlusconi. Eravamo tutti in aula per bocciare la nostra proposta e rinviare di un ulteriore mese la decadenza di Berlusconi. Dare un mese di tempo al senatore Berlusconi in violazione della Severino è un atto gravissimo che questo paese sta pagando rimanendo sotto il ricatto di un pregiudicato. Un atto irresponsabile e inammissibile di cui il PD e il PDL si sono fatti cari.